Ciao, il mio nome è Mihaela e io sono ragione di Bosnia e Herzegovina. Qui sono una studentessa della laurea magistrale, studio relazioni internazionali. Ho scelto Bologna perché ha una didattica di qualità e anche un ambiente culturale variegato. So far I've been happy with my choice, with the professors, community, with the city itself and its history. Grazie.